Se l'ho dato Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Oggi festeggiamo la Beata Vergine Maria come Regina del Santo Rosario. È lo stesso titolo con cui vuole farsi chiamare a Fatima quando finalmente la Signora, così come la chiamavano i tre bambini, svelò il suo nome. Io sono la Regina del Santo Rosario. Questo ci dice come il Rosario abbia un'importanza molto più grande di quello che purtroppo viene attribuito. Sembra una pratica troppo povera, troppo popolare, quasi una preghiera degli analfabeti. Chi non può, in qualche modo si diceva, leggere e comprendere quello che è il breviario, lo sostituisce con il Rosario. In realtà il Rosario è una preghiera di supplica alla Madonna che è composta da tante Avemarie, nei quali sono la ripetizione delle parole dell'Angelo nel suo saluto. E per questo, in quanto è la madre del Salvatore, alla quale una spada trafingerà l'anima insieme, unitamente a Cristo, dunque a lei ci rivolgiamo per essere aiutati. Ora, cioè nel momento in cui la stiamo pregando, è in quel passaggio così difficile e epocale per noi, che è il passaggio da questa vita a quella successiva, nello Spirito, in attesa della risurrezione che il Cristo, suo Figlio, ci donerà. L'intercessione della Madonna, dunque, è stata sempre fondamentale nella storia della Chiesa, dagli Apostoli in avanti, che pregavano con lei nel Cenacolo. Era lei il punto di riferimento, era lei la roccia della fede che non crolla quando tutto intorno si disfaceva anche negli Apostoli. Essi comprendevano bene che ella era il punto di riferimento, perché era sede della Sapienza, con lei che aveva istruito il suo bambino, che non era andato a scuola da nessuno, ma ella, istruita al Tempio, sapienza umana, era sempre ricolma di Spirito Santo e dunque conosceva i misteri di Dio per esperienza diretta, sposa dello Spirito Santo, genitrice dunque della Madre di Dio. Attorno a lei, dunque, come dono di Cristo, si riuniva alla Chiesa Primitiva e questo non ha mai smesso di farlo. Si diceva del Rosario, questa pratica che conosciamo dall'Alto Medioevo tuttavia diventa sempre più forte e cruciale proprio con quello che è l'appello della Madonna stessa a recitarlo, che vuol dire essere unita a lei, riconoscerla come signora, come regina, come colei che muove per ordine dell'Altissimo in funzione della salvezza del Figlio le cose che sono della guerra sulla Terra. ce lo ricordano anche le letture, l'Apocalisse, la donna che viene attaccata dal dragone, ma anche la Genesi dove ella schiaccia la testa del serpente antico e questa umanità che deve generare nel dolore che viene messa in salvo con lei e la viene dunque rapita e portata in salvo dall'Altissimo stando uniti a lei. Dunque noi siamo uniti alla fonte della grazia che è il Cristo che a lei ci ha affidato, ma siamo anche ordinati a quel combattimento spirituale che ognuno di noi deve condurre, ma ben condotto. Ognuno di noi è parte integrante di questa lotta cosmica immensa che si svolge per tutta la storia dell'umanità e ognuno deve fare la propria parte nel tempo qui sulla Terra e poi nel Cielo, secondo quello che viene stabilito. Ma ognuno di noi viene posizionato in una situazione e riceve degli ordini, degli incarichi e delle capacità per poter condurre sul proprio luogo, nel proprio punto, per quelle vicende storiche, per quel tempo, quella battaglia che viene coordinata, condotta, guidata dalla regina, la regina del cielo, la regina del santo rosario, la regina che ha fatto di questa arma l'unione con lei e dunque chi è unito con lei riceve tutta la forza di lei in modo, ripeto, ordinato per sconfiggere l'antico dragone. uniti a lei contempliamo nel misterio del rosario tutto quello che è la Sacra Scrittura sia nel senso profetico che nel senso del completamento del Vangelo e quello che la tradizione ci rimanda fino all'incoronazione di lei dopo che viene assunta in cielo come regina del cielo e della terra degli angeli e dei santi. contemplando il mistero contempliamo il misterio del rosario noi conosciamo e contempliamo la stessa rivelazione di Dio nel suo arco sia temporale che in tutte quelle che sono le connessioni misteriose teologiche dell'incarnazione della salvezza e della redenzione dell'uomo e con essa la nostra partecipazione. non siamo intimamente connessi con Cristo al suo corpo ed ella dunque si diventa madre nell'ordine dello spirito. Dio vi benedica.